Amici bellini, allora, eh, video extra, lo so, lo so, non vorrei ingolfare un po' il canale, d'altronde è martedì e quando è martedì, l'avete capito che io dico sempre martedì oramai, perché sbagliai una volta e fa ridere, fa ridere a me, che è buon martedì anche di domenica, di lunedì, di venerdì, non ha importanza, buon martedì. E volevo fare una cosa importante, perché vi devo spiegare la petizione, che alcuni già stanno firmando, e trovate il link in descrizione stavolta, non dimentico di metterlo, cominciamo. E' un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Allora, lo teniamo brevissimo, io sono Valerio Fluido da New York, per chi mi stesse conoscendo adesso, perché anche può essere, gli amici bellini invece mi conoscono, e va bene. Allora, è il giorno dopo, abbiamo fatto l'analisi, abbiamo vinto contro la Juventus, abbiamo sofferto, però c'è stato gruppo, c'è stato spirito di sacrificio, molto bene. E sono andato a rivedere gli abbracci a fine partita, perché sono significativi, gli fanno capire l'unione del gruppo, li voglio osservare bene, anche giocatori che invece si erano un po' accusati tra di loro. Sì, vi confermo che c'era anche Yusai, col giubbotto nero, che stava lì nel gruppone, il gruppo è unito, ed era importante anche Yusai, che era al centro un pochino di quello shitstorm generale, da parte anche dei compagni. Quindi molto bene. Le dolenti note sono che, alla fine di questo, almeno dalle immagini che ho, anche Baldari, che è il capo dell'ufficio comunicazione del Napoli, cerca il 5 da Gattuso, e Gattuso lo scosta un po' stizzito, è l'adrenalina del momento, non voglio creare un caso, ma voglio giustificare il fatto della petizione, dove io chiedo semplicemente, e noi chiediamo ad ogni firma, che il Napoli si strutturi meglio a livello di società con delle figure che possano essere figure mediane, che medino con i media, il rapporto tra giocatore e allenatore, tra allenatore e società, perché molto spesso, se vai allo scontro diretto, ci sono i caratteri, Gattuso non dovrebbe parlare sempre direttamente con De Laurentiis, oppure le cose non gliele dovrebbero dire sotto voce, ma bisogna avere dei confronti diretti, ed è importante avere una figura che possa mediare in questo caso. Ora, Baldari, come Lombardo, io faccio i nomi perché non c'è nessun problema, sono delle figure che io rispetto professionalmente, ma che molto spesso risultano antipatiche per certi tipi di atteggiamenti, e io ho il sospetto, è una mia intuizione, che non siano mai stati troppo simpatici a Gattuso, ricordo Gattuso voleva rispondere a certe domande in conferenza, e Lombardo voleva subito togliere da mezzo, fammi rispondere, non devo cash pay, fammi rispondere, e che va bene tutto quando si vince, ma quando si comincia a perdere, anche questo poi influisce. Allora lì mi è sembrata, tu levati da mezzo, perché quando Gattuso ha gli sfoghi davanti alle telecamere, lui sì, se la prende con chi l'ha insultato, su chi è andato sul personale, ma fondamentalmente il suo risentimento è da parte di un ufficio stampa che magari poteva difenderlo in maniera diversa. Quando arrivano certe cose, l'ufficio stampa deve intervenire, ti deve consigliare cosa devi dire, quindi questo lasciare a se stesso Gattuso, anche con i suoi sfoghi, questo è sbagliato, e questo poi ci differenzia sul lungo con le altre società meglio strutturate, con più storia, con più organizzazione, perché alla fine ragazzi, tutti, tutte le squadre, ad un certo punto della stagione, incontrano dei momenti difficili, quelle che vanno avanti sono quelli che superano i momenti difficili in maniera immediata, facendo gruppo, facendo quadrato, intorno alle figure importanti. Ecco perché nasce l'idea da Fabio Versatile e anche della petizione, dove noi mettiamo in evidenza un nome specifico che è il dottor Alfonso De Nicola, con il quale abbiamo avuto delle stagioni straordinarie, zero infortuni, lui preveniva gli infortuni, diceva ai giocatori come dovevano mangiare, come dovevano allenarsi, un'eccellenza, un'eccellenza che manca tantissimo. Aumentano gli infortuni muscolari nel Napoli, è chiaro, è un periodo particolare perché si gioca ogni tre giorni, super lavoro, poco turnover, è impossibile da fare, c'è anche il Covid, tutto giusto, però la figura di Alfonso De Nicola per me era fondamentale anche nello spogliatoio, una persona amata, preparata, competente, quindi noi facciamo questo nome qui, dopodiché lasciamo alla professionalità del Napoli, all'idea del Napoli, l'individuare una figura che possa fare da direttore sportivo, da direttore generale, figure che insomma le altre squadre hanno e che a noi mancano, perché Giuntoli è un direttore tecnico, ma alla fine quando va ai microfoni non dice niente di quando va ai microfoni non dice niente di di che e purtroppo sappiamo che fare il direttore tecnico con De Laurentiis significa avere carta bianca, sì, ma fino ad un certo punto e quindi servirebbe una figura veramente di spessore. Non abbiamo fatto nomi nella petizione perché se io dico prendi Salvatore Bagni, non lo so se De Laurentiis magari già ci ha provato, non si sono trovati, se Salvatore Bagni chiedeva delle cose diverse e poi non si sono messi d'accordo, non lo sappiamo, quindi è inutile fare dei nomi, ma bisogna individuare una figura di questo tipo che ci possa far fare un salto di qualità all'interno della società perché quello poi fa la differenza tra la grande squadra e la piccola squadra. Le grandi squadre le steccano le partite, le partite si sbagliano, va bene tutto e poi quando hai la struttura societaria che vai avanti sul lungo e rimani a certi livelli perché ragazzi quando tornano le milanesi in gioco e la Juventus non molla, il Napoli deve lottare per quelle zone e per il quarto posto insieme alla Roma che non molla, insieme alla Lazio che non molla e insieme all'Atalanta che oramai si è stabilita tra le grandi del calcio italiano. Questo è il problema, non dobbiamo sentirci defraudati dei primi posti, dei secondi posti e dei terzi posti, è difficile, però si può fare, avete visto il Milan ha sbagliato con lo Spezia, ha perso nettamente con tutti i titolari, quindi capita a tutti, capita a tutti e tu puoi stare là, puoi stare là a lottartela se l'ambiente è tutto unito, se la società sa anche compattare l'ambiente nei momenti difficili altrimenti ci facciamo del male da soli e oltre a quelle cose normali che succedono nel calcio che puoi avere un periodo o no, ci mettiamo il carico da 90 e ci attacchiamo tra di noi perché a Napoli il giornalismo è così, ci sono tante persone competenti e ci sono anche persone che lo fanno in un certo modo, un po' per ripicca verso la società, un po' per amicizie verso altra gente, un po' perché questo è il modo che sanno fare perché se non vanno sulle cose personali nel tecnico vanno più in difficoltà, insomma questa è la situazione e speriamo che De Laurentiis lo capisca, speriamo che ci ascolti perché in questo momento sono convinto che De Laurentiis sta riflettendo su certe cose, sta telefonando a molte persone, non ci dovrebbe arrivare, questo è il problema, non ci dovrebbero arrivare queste voci ma sono uscite e lui sta telefonando, sta pensando al futuro, speriamo che questo futuro possa essere roseo sotto questo punto di vista con una figura professionale importante che ci aiuti, trovate la petizione in descrizione, il link, arriviamo a tante firme, 500 firme io penso che è abbastanza per poterla far arrivare agli addetti ai lavori e farla arrivare ai piani alti, da New York Valerio Fluido è tutto, grazie per sempre per il vostro supporto, siete straordinari, siete dappertutto, io vi adoro, seguitemi su tutti i social at Valerio Fluido lo sapete dove trovarmi, piattaforme, cose varie, Caffè Napoli, 1926 su YouTube, al servizio della maglia perché poi a me mi interessa questo qua, gli uomini passano, ma questo qua resta. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500, dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse, iscrivetevi al canale, boh, ma hoi, c'è stato tasto, mi ricordo come mi chiamo.